Raga, dove cazzo siamo? No raga, ma perché siamo fuori? No ragazzi, non mi sto preoccupando No, fermi, siamo entrati nel gioco di Jason No bro Di venerdì 13 raga Allora aspetta, dobbiamo capire un attimo che dobbiamo fare Perché da quello che ricordo bisogna scappare in qualche modo Sì, allora, io mi ricordo tre task Chiavi della macchina, il cancelletto per uscire E tenere accise le luci Ah, lui che le vuole accise le luci Oh bravo, ok raga Ci dobbiamo far prendere ragazzi, l'importante è non farsi prendere, ok? Lui ci può uccidere, ci porta al labbro Possiamo arrestarci solamente una volta Sarà difficilissima Esatto, lui tra poco partirà, lo iniziamo a vedere Non fatevi prendere dal panico Fondamentale ragazzi, mi raccomando Possiamo partire insieme per favore Non si può urla Ok, giriamo solo insieme ragazzi Non dobbiamo urlare E non dobbiamo trovarlo Raga, iniziamo a cercarne robe noi Allora, per il momento siamo a posto perché è tutto acceso Quindi possiamo anche sbrigarci a trovare le cose Buongiorno ragazzi Sono io, sono Refiz Ora, poche non sembra Ma oggi giocheremo a Day by Daylight In questo momento Ferro e gli altri si stanno radunando Perché dovranno trovare due oggetti per riuscire a scappare Ovvero le cavi della macchina di ferro E il telecomandino per aprire il cancello Mentre io dovrò impedirgli a riuscire ad ucciderli tutti E ovviamente Fagli anche tanta paura sotto questa nasca ragazzi Fa caldissimo, non avete idea Comunque, io partirò tra esattamente due minuti A cercarli Mi raccomando, voi intanto lasciate un bel like Iscrivetevi al canale Ora aspettiamo solamente Loro si preparino prima che arrivi il clown a prenderli Cercare le cose Telecomandino Telecomandino, attenzione perché è piccolo eh E raga è minuscolo il telecomandino È impossibile da trovare Ogni singolo pezzo ragazzi della casa Deve essere velocissime Raga, veramente caricissime No, allora raga L'ho fatto il mio portafoglio No, qua non mi sembra vedere nulla eh Aspetta, aspetta Qua c'è Tutto acceso Magari raga c'è qualcosa qua No, no, no Raga, ogni cassetto Dovete guardare qualsiasi cosa davvero Forse qua in bagno Porca vacca Qua è un casino raga Non so minimamente dove cercare Oddio che minuscolo quel telecomandino Raga Raga, su Su, su Se vi trattate un po' Non ti ricordo le messe Eh, sì magari Ma ne avranno ascolte Andiamo su raga Andiamo su Pagliate Pagliate Andiamo su Veloci Raga, attenzione sempre a Jason Che potrebbe essere benissimo Qua in queste parti eh Non so se Jason è già qua con noi No, Jason è fuori secondo me Ok, mi raccomando Al massimo aperto Proprio spalancato Doviamo a vedere dappertutto Io vado su eh State attenti No, ma vengo a chiudere No, no Io potete non dividere Continuiamo qua da sotto No, no, no Io non rimango da solo assolutamente Ok raga Qua è camera nostra Non esiste una porta che chiude queste porte Ah, neanche qua raga Qua è tutto aperto Raga, cercate Cercate a gogo Ok No, zero C'è un problema Qua è camera di Conti No Ah, qua ci sono le scarpe tipo Raga, i tacchi Le varie cose Oddio, ma cosa c'è vanno quelle lì? Non lo so Non lasciamo stare Camera di Lori Ah, in camera di ferro pure Camera di Lori no Perché qua c'ha le sue cose Provano i cassetti tipo Vediamo nei cassetti No, non c'è niente Non c'è niente Eh, c'è un problema Non so Jason tra quanto parte Ma abbiamo veramente pochissimo tempo Ma proprio poco tempo Grazie qua c'è qualcosa No raga Raga, non si trova davvero nulla Questo è un grande problema Un grandissimo problema Tutta la casa non c'è nulla Non c'è nulla Poi certo Comunque è anche la parte più difficile Qua bisogna stare attenti, eh Che Jason potrebbe arrivare da un momento all'altro Io è il rischio Mi divido Il problema è che non sento Il problema è che nessuno Non so Mi ne ha iniziato ad andare Sapete che vi dico Scappiamo Raga Dove state Possiamo partire Per prima cosa Inizierò a spegnere un po' di luci Sarà il buio più divertente Non credi Qui iniziamo dalla piscina Passiamo Sono fuori Oh Che mi hai lasciato da solo Ragazzi Ragazzi Porco Un canale che voglio fare una cosa Era acceso con quello Era acceso Oh cazzo Ho sentito Rega Un rumore Fortissimo C'è qualcuno di sopra Raga Sta spegnendo Sta spegnendo Le luci Non so se è lui Raga sono di sopra Come stai arrivando No dimmi di no No però Dove cazzo andiamo No dimmi di no No però siamo in trappolo No no però No siamo in trappolo Sì devo chiedere la porta fortissimo C'è lui Sotto 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 tutto il letto Mi voglio fare Tutte Le luci Eamo Ho rim一些 Trari Sì Ragazzi Non c'è nulla No, però io, ok, affurta davvero, raga Sentimelo qua No, però, fermo un po', farci il giro di qua No, però Ok, vuoi scappertelo No, però, sta arrivando Che facciamo? Non lo so Giù? No, però, sta arrivando il muore No, raga Sta salendo le scavenze Come sta salendo? Sta salendo le scavenze Raga, sono fottuti Siamo fottuti Siamo fottuti Ho paura No, però Ok, no, no Sta salendo le luci Ok, no, sta salendo le luci, è gravissimo Come sta salendo le luci? Ok, è arrivato Devi guardare, devi guardare, continuare Devi guardare, devi guardare Devi guardare di vista Non guardare Continui, devi stare veloce, guardare Sì, è tutta la luce Ok, per se non va Questa sfida, ragazzi, è troppo pericolosa Tra altri video del genere Iscriviti al canale, raga Questo è un nuovo tutorial Sto spingendo tutte le luci, il pastardo Non è tante le luci Oddio Ok, vieni Mi aspetta con la luce da piscina Ok, mi aspetta con la luce da piscina Ok, mi aspetta con la luce, la piscina Ok, mi aspetta con la luce, la piscina Allora ragazzi Sta arrivando Raga è lui No 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 è grave No 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 bro ti prego Ok la piscina ci aiuta comunque raga Deve per forza passare da un lato Teoricamente dovrebbe essere più lento di noi quindi se non cado in piscina Ok se ne sta già andando Se ne sta già andando raga Perfetto raga E' stato andato l'allarme Faccio 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 l'allarme Scendiamo Eh si ci conviene ci conviene Ok possiamo essere anche dietro raga Io veramente lo posso aspettare dappertutto Ok Vai su Porca vacca Faccio il giardino Salvano Circa vacca Circa C'è stato deciso Ma Ma Dov'è mia mamma Non c'è mi stare stronzo Ragazzi mi sa che ha preso Conti Ne ha preso uno Devo cercare dappertutto raga Ogni posto dove siamo spawnati Dappertutto raga Ok raga sto con una follia ma devo entrare nel bunker Se per sbaglio No ok nel bunker non ci vado raga ho tutta paura Che cavolo raga ma che situazione è Ragazzi ha trasportato Conti all'albero Io sono trasportato Conti all'albero Non c'è un cazzo no 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 Non c'è un cazzo senza luce raga Non c'è un cazzo senza niente Il Lego È venuto qua Eh ma non c'è la scarpa Non c'è il telefono Non mi vorrai lasciare qua il buio Ma faccio un cazzo Telecomandino chiavi qualcosa raga Purissimo aiuto Non si trova nulla Anzi il totale Non credo Però io non l'ho trovato ancora niente Sì Ma dove sono le chiavi Le chiavi le luce non c'è un cacchio raga Potrebbero essere tranquillamente all'albero dove già si trasporta le persone Non è una mossa stupida Ok volevo spaventare anche l'olio Allora time out per la parrucca Continua a cadere Ma sono sudatissimo Quanto è un inquietante? Dieci Pua Bisogna accendere le luci Aspetto pure l'interruttore sopra Pure l'interruttore sopra Tu accendi le luci Arrivo Ok andiamo Stai arrivando Stai arrivando Stai arrivando Stai arrivando Stai in casa No 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 l'hai chiuso L'hai chiuso Stai arrivando Stai arrivando da dietro Oh mio Dio Oh mio Dio Oh mio Dio Oh mio Dio Non devi ridere Hanno liberato Conti Questo non va bene? Ok ho acceso tutti i tuoi torteano Guarda di guardare qua Hanno già acceso le luci Mi metto di spegnare Ok andiamo Avete aperto gli sbesti Che cazzo mi frega E' fuori 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 E' fuori 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 E' fuori fuori Ah Lasciami stare Mette di merda Adesso sto fattendo No cazzo Ecco qua Mi spiego male Ok spingiamo Aspetta non mi vede ragazzi non mi vede fin giuro io voglio trovare sta travi non ci sono da nessuna parte gli diamo che è veramente tutto un incubo gli diamo che è un incubo hai trovato qualcosa vai là sopra si spegna tutte le luci vai là sopra accendiamo tutto tutto accendiamo fuori però dentro è tutto buio sono sudatissimo ancora non ho trovato le chiavi raga ma non si trova nulla non ho idea di dove siano chiavi questa cura è gigante no bisogna divertire altre chiavi qua no ragazzi non è neanche qua no vi giuro non capisco dove sia tutto trovate ce ne abbiamo le chiavi dell'auto ce ne abbiamo raga traguardo assurdo ho a dirlo subito agli altri senza famiglia devo sentire da gesù e andrò anche a vedere se è morto qualcun altro perchè non vedo gli altri da troppo tempo finiriamo a vedere gli altri ragazzi siete voi ragazzi siete voi ragazzi siete voi ragazzi siete voi per favore siete voi qui siete voi oh 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 Ok in casa non c'è più nessuno Non c'è più nessuno in casa Non mi ha visto Le trovate Le trovate Le trovate Ci abbiamo Ok però adesso ci trovano Guarda guarda che spia Oddio lo vedo lo vedo Oh mio Dio Ma conti chi ti l'ha fatto Non lo sento più da tantissimo Mi nascondo qua dentro Con il cazzo che mi vede Mi sto morendo Mi sto sudando Basta Allora ci manca solamente Tenere accese le luci Perché si stanno spaventando le luci Sta arrivando già dietro Non è Conti? 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 Dov'è che stanno? Come sta bene amici Non capisco Un solo tecno indio rosso Un misero piccolo tecno indio rosso Ok Cosa è che se ne è scappato eh Jason Molto buono Dovrebbe essere dentro anche perché Non vedo una vinte traccia Non è caccao Che cazzo si faceva là? Che cazzo si faceva là? Guarda stai aspettando Guarda stai aspettando No 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 Io vado via Io vado via Io vado via fortissimo Raga Guarda Ho trovato le chiavi E' trovato Lancia va Ok Manca il telecomandino Sto volendo Sto volendo Sto volendo Bro cos'è che ci manca? Abbiamo le chiavi Ci manca il telecomandino Il telecomandino? Sì Forca puttana Oddio ha chiuso la porta Ha chiuso tutto Ha chiuso tutto dentro No Ha chiuso Siamo fottuti Non ci cosa? Siamo fregati sai perché? Ferro No regà No ferro Non mi ha chiuso dentro Sì Ha chiuso dentro No bro E' qua l'entrata E' qua l'entrata che sta spiando Guardalo 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 Non lo sa Ma io lo sto guardando No 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 Ma non sta arrivando No 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 Non sta arrivando No 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 Non sta arrivando No 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 Jason No 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 Per favore Io ho una cosa ho fatto Della vita Che è quella di non fare male a nessuno Per favore Non mi devi far male Per favore Via 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 Ragazzi io scappo Poa Poa sti cavoli Conti 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 Raga Scappate Fatelo per me Vado via Vado su da Ferro Ferro Sono sudissimo Sto morendo Dov'è carico Prima cosa ho l'argomento Sto morendo Sto morendo Ci stanno per chiudere dentro casa Come va a sbagare Eh bro Non trovo il telecomandino Dobbiamo trovare quello Guarda E' troppo il via della macchina Se sfontassimo il cancello Ti giuro lo facciamo Forse il vetro Lì c'è No il cancello Non sta fuori E ha ucciso tua Non so Mi lamenti Come sta No bro Adentro Può essere Dici No 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 Ma procediamo a sbrigare Sì Ci siamo senti un tuo rumore Cosa ti ho fatto Cosa ti ho fatto Cosa ti ho fatto Perché sei qui Perché non voglio prendere gli altri Perché vuoi me Puttana merda Questo è un uomo Questo è un uomo Questo è un uomo Questo è un uomo Questo non dietro Che ci sono di ci fare La luce più grande raga Jason Il comandino del cavolo Vi prego Fatemi uscire da sto inferno Ve lo giuro Sono morto Sei morto Sì No Come sei morto Sto tornando Sto tornando Poi ci ammazza questo Una sola zona Una sola zona Che è quella Dietro casa Però ci stanno pure le chiavi Non può essere anche quello qui Così come rimangono Tanti punti In questa casa Tu sei morto Ma come sei morto È d'altra parte Sto tornando Sto tornando Sto tornando Io me ne scappo No no Sto arrivando Un indico Oh cazzo Un indico Non c'è Non c'è No ragazzi Dove cazzo è Il telecomandino Ti prego Dimmi che qua Da qualche parte Non è la vizzura Di questa parte Siamo scappati Non so come Ma siamo scappati ragazzi No non siamo scappati Ok Ti prego Jason Voglio parlare Tenmi fermo E voglio parlare Per favore Ho bisogno di un indizio Per il telecomandino Per favore Jason Sì bravo e cremente Spazzo Le ho guardate tutte le scarpe No Non dirmi le No 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 Ok io però ho trovato Un glitch in questo gioco Sai qual è Il glitch della piscina Non è lanciarmi State tranquilli È troppo tardi Però se io vado In una zona della piscina Lui per forza È costretto ad andarsene Vedi Ragazzi è incredibile Sta cosa Brutto infame No non spogliere questa Luigi stavano a spogliere Come questa Non mi va che era Quando mi ha preso Sto spiegando Mi prego caro Jason Vai via Vai vai su vai su Sa temple Lana È acquistare la piscina Te dimenticate Sì Che ass perfume Che vasco Non è venuta Secoco Non è venuta Mi hai venuta Non è venuta Mi hai venuta I venuta Non è venuta Non è venuta 일본 iniziate di slogan in gamba ma siamo vivi il bug da piccina funziona fino a un certo punto raga sono le scarpe nelle mie scarpe no non è la mia non è la mia scarpa le scarpe e soprattutto dove sono le scarpe ok devo approfittare l'assumento e vado dall'altra parte devo approfittarne cerca nelle scarpe quale scarpe tutte le scarpe non c'è più ragazzi è quella di qualcuno qua no no non ci sono neanche qua però tutte le scarpe bro in queste qua non ci sono le restano tante altre paia è qua è qua ferro ferro sotto il letto queste no neanche no no gesù non abbiamo trovato abbiamo guardato ogni scarpa gesù ogni scarpa gesù no ragazzi la porta no 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 è tornato sono morto no come sei morto sono morto no è impossibile e manca pova manca solo pova oddio non ce la farà ma pova non è la patente come faccio a fare infatti poi ce l'ho io le piani e qua da questa parte è l'unica no qua non c'è qua non c'è nemmeno ma forse no e anche qua no ti amico solo queste scarpe forse qua da questa parte oddio eccole qua l'ho trovato l'ho trovato l'ho trovato la chiave la chiave del cancelletto ragazzi ferro sto arrivando ferro su senza la gamba sono sobrio sono l'unico vivo il punto che sto zoppicando tu lo sai che se dovreste non trovarci è andato via tranquillo ha tutto l'altro in una vita quindi puoi camminare su così guarda cosa qua guarda cosa qua ce l'ho trovato l'ho trovato andate andate rega veloci tu esci con la macchina stai arrivando stai arrivando vai vai ti accendo il cancello ti abbo il cancello devi stagliare il veloci appena arriva ok ok accendo ok no 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 eccolo qua lo sto prendo ragazzi dovete raccontare io mi sacrifico può succedere perché può succedere raga ma dove sei andato Pua io esco teoricamente basta che ne dice uno abbiamo vinto ferro dai rega ce la fate ragazzi riuscire a provare il cancello sai cosa ti dico io mi sacrifico io ve lo frega è arrivato è arrivato non me ne frega niente io vincerò anche dal top non me ne frega niente non me ne frega niente ti sto provando a bloccare guardami guardami e abbiamo vinto abbiamo vinto signori abbiamo concluso l'abbiamo vinto signori abbiamo ufficialmente vinto la sfida oh grande eh ti manca solo il fatto il primo vivo vivo qua grande vedi che vado a vedere che sei allo solo l'infarto della vita sei preso porca puttana ragazzi per ente spaventarlo vieni vieni signori la vittoria è finalmente arrivata non ci credo assurdo regà hanno vinto i survivor fateci sapere con chi altri clown o mostri vorreste vederlo sarebbe super divertente vedere detto questo iscrivetevi al canale sentiamo cosa da dire il vincitore io te lo ho visto una cosa grazie al mio team le trovate tra l'altro Pua e il telecomandino io ho trovato le chiavi grazie a Conti che è morto subito non è servito a nulla si può vedere dalla nostra faccia quanto siamo soldati ragazzi se non vi iscrivete te lo fate un like adesso io non so quando dovreste farlo quindi fatelo adesso ci vediamo nel prossimo video bella 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 bella